Buongiorno a tutti, allora la magliettina della settimana, eccola qua, frases della settimana, mi raccomando, mi raccomando è una frase veri veri important che per me vale, vale molto, quindi sappiatevelo, come diceva quello là, sappiatevelo. E proseguiamo con le news perché l'altra sera un'ora e mezza per preparare le news, le call news, metterle un po' da una parte, un po' dall'altra, ne abbiamo, ne abbiamo, perché poi dopo le news devo prepararvi le schedine e bollettine del gigione perché domani c'è ancora Champions e anche tre partite di conference domani. Poi mercoledì c'è ancora Champions e poi giovedì ci si suicida perché ci sono una cinquantina di partite di conference. Comunque andiamo a vedere queste tre news che riguardano il nostro bel laghetto perché è la rivista americana Travel Leisure a stilare la nuova classifica dei 10 razor più belli d'Italia e chiaramente non poteva mancare il lago di Como con ben tre strutture. Il primo posto della classifica generale è stato assegnato al Rosewood Castiglion del Bosco di Montalcino seguito dall'hotel Santa Caterina di Amalfi e dal razor San Pietro di Positano. In quarta posizione ecco il primo hotel sul lago di Como si tratta del grande hotel Tremezzo che con un punteggio di 96,80 su 100 minchia viene particolarmente apprezzato per la cura dei dettagli e ovviamente per la strepitosa vista sul lago. Al quinto posto c'è il borgo Egnazia Savelletri di Fasano con un punteggio di 96,60 96,80 lo grande hotel Tremezzo 96,60 il borgo Egnazia. Seguito dal secondo resort sul lago di Como il grande hotel Villa Savelletri di Bellagio. Vi dice niente la contessa Savelletri di Mazzanti viene dal lago poi dopo mi scrivete nei commenti da dove arriva la Savelletri di Mazzanti viene dal lago. Con un punteggio di 96, descritto come una location magica e con un servizio che ti fa sentire veramente a casa. A pari merito con l'hotel di Bellagio c'è l'hotel Cesar Augustus di Capri. A seguire nella classifica l'Esserenuse di Positano e il grande hotel Excelsior Vittoria di Sorrento. E anche qui Grand Hotel Excelsior, ragazzi solo il film, già il nome vi dice il titolo, già il nome vi dice il titolo e mi dovete scrivere sotto nei commenti almeno tre attori che c'erano in quel film Grand Hotel Excelsior. Troviamo poi un'altra eccellenza nel lago di Como, si tratta del Villa d'Este con un punteggio di 95.37 che viene amminato per la bellezza dei suoi arredi antichi e dei suoi giardini. Quindi vedete che il Villa d'Este, l'Ibidine che la Leila Milani ne ha decantato la bellezza eccetera non è neanche il più bello perché il più bello è il tremezzo. Pensate come siamo messi bene anche con gli alberghi. Libidine, che devo dire? Libidine. Comunque andiamo a parlare di un luogo dove ci si può rinfrescare se si abita in zona lago o comunque in Lombardia. Una delle mete preferite dai comaschi in tutte le stagioni, ma è d'estate quando si cerca un riparo dall'afra della città che Brunate e i suoi rifugi diventano un riparo irresistibile. Dall'inizio del secolo scorso la baita Bondella offre e ristora i numerosi amanti delle nostre montagne e della tradizionale passeggiata delle Colme. La baita Bondella, che si raggiunge a piedi partendo da Brunate o da San Maurizio, dispone di quattro camere per un totale di dodici posti letto e due mini appartamenti con cucinino. Per notare alla baita Bondella significa risvegliarsi nella natura, respirare l'aria fresca del mattino a 1100 metri di altitudine e magari partire per escursione nei dintorni, dove non è difficile incontrare e fotografare la fauna locale. Alla baita Bondella è possibile sia pranzare sia cenare, previa prenotazione. Si giunge attraverso una strada carrabile che si snoda in un bosco di abeti e faggi, percorribile a piedi in circa 20-25 minuti, con partenza dal piazzale Cao. Dall'ampia terrazza della baita Bondella si può godere una vista impagabile. Nelle giornate di cielo sereno si vedono lo skyline di Milano, il Monte Monvio e la catena degli Appennini. La baita Bondella è inoltre, no scusate degli Appennini, degli Appennini, degli Appennini, degli Appennini, dicevo cazzo gli Appennini sono in Toscana, Emilia Romagna eccetera, un po' difficile vedere, invece gli Appennini, gli Appennini, schiedovenia. Ogni tanto la gaff ci sta perché se no, se non faccio la gaffettina, eh signori miei. Comunque, la baita Bondella è inoltre il punto di partenza per diversi itinerari di varia difficoltà. Capanna San Pietro, Rifugio Riella, Bocchette di Lemma, Sentiero per Bellagio, Capanna Mara, Capanna Fabrizi. Particolare percorso è quello del Bosco dei Faggi, uno dei tratti più pittonistici dell'itinerario del Triangolo Lariano. Un saliscendi su sentiero dal terreno compatto e scorrevole, con vista mozzafiato sul lago di Como. Molto frequentato anche dai mountain bikers che possono affrontare piste di varie difficoltà ben segnalate. E da settembre arriverà anche una bella novità, signori e signori. A per cena con musica dal vivo dalle 18 alle 20 e poi cena. Quindi, signori miei, per chi ama andare a fare le passeggiate in montagna eccetera, baita Bondella. E adesso veniamo ai pesci, pesci di lago, famosissimi proprio del lago di Como. Perché adesso sono diventati un piatto libidine. Prima era un piatto povero, invece adesso è un piatto da doppia libidine. Quei fiocchi ho mangiato, ho mangiato, sono buoni. Ora sono un prelibato cibo da gustare insieme alla polenta. Una ricetta tipica dell'ario. Ma i misoltini, gli agoni essiccati, detti in dialetto misultit o misultin, erano un tempo una preziosa risorsa alimentare per gli abitanti del lago di Como. Il particolare procedimento di lavorazione ne permetteva la conservazione per oltre un anno. Questa loro caratteristica ne ha fatto anche una ricercata merce di baratto nei secoli passati. La prima cosa da fare per preparare i misultit è pulire gli agoni, bucando nel collo e togliendo l'interiora, le quali non vanno buttate perché sono la base di un gustoso piatto. Il culadur, culadur, e se si chiama così è ragazzi. Per ogni chilo di pesce fresco da lavorare occorrono 80 grammi di sale. Si procede alternando a strati in una bacinella il pesce ed il sale, coprendo alla fine il tutto con uno strofinaccio e lasciandolo riposare per 12 ore, durante le quali si forma la salamoia. Si girano e si lasciano riposare per altre 12 ore. Con un ago curvo ed uno spago si realizzano delle collane di peci, le sfilz. Una volta infilati si sciacquano per togliere la salamoia e con un bastone di bambù detto sbadae si dà alle sfilz la caratteristica forma a bocca aperta, da qui il termine sbadae, sbadiglio. Infine li si appende a dessicare. Un paio di giorni sono sufficienti. Quando i misoltini sono ben secchi si sfilano dalle collane, gli si batte la testa per schiacciarla e si mettono in un secchiello di legno o latta, avendo l'accortezza di sestremarli a ventaglio e con la pancia all'insù. Ai pesci vanno alternate alcune foglie mature di alloro. Messo il coperchio al secchiello si pongono sotto pressa col tore, torchio, o con la leva iranesa, leva francese, avendo l'accortezza di ripulire periodicamente l'olio che emerge, altrimenti i pesci lo riassorpono andando a male. Se si usa il torchio bisogna dare periodicamente dei giri di vite, mentre la leva iranesa, la pressione che esercita è continua. Pescati solettamente tra maggio e giugno, gli agoni trasformati in misoltini sono pronti per la consumazione ad ottobre. Si mangiano preferibilmente con un goccio di aceto, di olio ed una fetta di polenta, una ricetta da pescatori. Ma andiamo a vedere come si pescano questi pesci. Facciamo un po' i sanpei della situazione. La tecnica di pesca agli agoni è molto semplice da attuare e molto divertente da praticare sull'ario. Ricordiamo che gli agoni sono una sottospecie della cheppia, all'usa, che si sono adattate completamente alla vita in acque dolci. In particolare si tratta di un pesce gregario che vive in banchi nei grandi laghi. Si possono pescare dalla riva con la canna oppure con il bilancino quadrato, una rete da pesca a forma quadrata, con quattro asole poste agli angoli che vengono fissati agli estremi di due astre metalliche incrociate, fissate da una corda ad un palo simile a una canna da pesca che ha alzato issa la rete. Sull'ario questa specie è chiusa dal 15 maggio al 15 giugno. Non è possibile inserire di arla in questo periodo e la misura minima da detenere è di 15 centimetri, quindi va pescato dal 1 maggio al 14 maggio e dal 16 giugno in poi, perché visto che ho considerato che vanno pescati tra maggio e giugno, bisogna sfruttare i primi 15 giorni di maggio e i secondi giorni di giugno, i secondi 15 giorni di giugno, perché nel mezzo c'è il divieto, eccetera, eccetera, e poi mi raccomando 15 centimetri, portatevi a dietro almeno un righellino in modo da vedere che non avete preso dei pesci fuori misura, perché le multe sono salate, i controlli anche, però, ripeto, è un pesce da pescatori, perché poi c'è tutto il procedimento da fare, quindi non è che può andare il neofita o il pescatorino, il ragazzino che te ne pesca 10 che non ve ne fate nulla, lì ne dovete pescare un bel po', perché poi c'è tutto il procedimento da fare, tutto quanto, e ci vuole lo spazio, ci vuole il tempo, ci vuole tutto quello che serve, quindi lasciateli pescare ai pescatori. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio, vado a preparare le schedine e bollettine del gigione, che poi alle 5 c'è da fare, lo scrivano nerazzurro, dalle 5 alle 20, oggi tre ore di nerazzurismo, ciao!